Molto brevemente volevo fare un accenno su quello che è europeana e lo facciamo partendo proprio dalle poche slide che avevo qui. Allora, quanti di voi conoscono già il portale europeana? No, evidentemente non è colpa vostra, è che europeana non ha ancora lavorato molto bene sulla disseminazione dei risultati e sulla pubblicità. Allora, europeana è un'iniziativa nata nel 2007, diciamo così, come risposta politica, in soldoni, della Comunità Europea allo strapotere di Google all'epoca con Google Books che iniziava a digitalizzare patrimoni culturali anche europei, quindi iniziava a fare proposte anche alle biblioteche europee di digitalizzazione. Di fronte a questo atteggiamento, in particolare Francia e Germania decisero di incentivare un'iniziativa analoga, quindi che favorisse la digitalizzazione e la fruizione di materiali relativi ai beni culturali digitali in ambito europeo. Questa iniziativa quindi è partita con questo scopo, questa era la frase che in qualche modo poi fu riportata in uno dei primi report della comunità dal commissario Nelly Cruz che è, come dire, è dato un po' il là. Essenzialmente il progetto è nato inizialmente come un prototipo, dal 2007 al 2009 c'è stato questo progetto che si chiamava IDL.net che doveva sviluppare appunto un prototipo di un portale per l'accesso ai beni culturali digitali online. Poi nel 2009 al 2011, in particolare nel 2010, c'è stato il rilascio ufficiale del portale europeana.eu e poi si è costituita una fondazione che ha sede all'AIA che in qualche modo continua a gestire la crescita di questo portale. È un'iniziativa che ha ricevuto un supporto dalla comunità europea notevole e tuttora sta ricevendo in maniera diretta e indiretta fondi. Ci sono, negli ultimi 4-5 anni, ogni anno c'è una call, prima nel programma iContent Plus, poi nei programmi CTPSP, cofinanziati dalla Comunità Europea, proprio per aggregare contenuti per l'europeana. Euscreen, il progetto che ho presentato prima, è come European Filming 2 e tanti altri, li vedremo brevissimamente, e sono tutti progetti che sono stati finanziati proprio per fornire contenuti, quindi materiali digitali, metadati e dati, a questo portale. Ad oggi Europeana come portale contiene 23 milioni di oggetti digitali, quindi inizia ad avere una massa critica non indifferente, proveniente da tutti i paesi europei, e sta raccogliendo dati seguendo questo schema, diciamo così. Quindi ci sono sia singole istituzioni, quindi non so, la Biblioteca Nazionale Francese, piuttosto che l'ICU Italiano, quindi l'istituzione centrale per il catalogo unico, che altre istituzioni nazionali, per lo più biblioteche, che forniscono direttamente contenuti digitali a europeana, oppure ci sono quei cosiddetti aggregatori, che sono nient'altro che progetti, di nuovo, o istituzioni, quindi aggregatori nazionali, che forniscono materiali, in genere aggregati per dominio, per tema, quindi ci sono progetti come EFG, che è l'European Film Gateway, quindi archivi filmici, film archivi cineteche europei, che hanno aggregato contenuti per europeana, EUSCREEN, archivi televisivi, EIPnet, che sono archivi veri e propri, archivi cartacei, Atena, che sono musei, Carare, che sono istituzioni che hanno raccolto materiali sulla archeologia, HOPE, che è scelte sociali, MIMO, strumenti musicali, quindi si sono creati nel corso di questi anni progetti tematici che raccoglievano, e mettevano insieme istituzioni attorno a specifici domini o temi, per raccogliere e aggregare contenuti per europeana, fino a farle arrivare alle dimensioni che ha oggi, che sono ragguardevoli, perché 23 milioni di item non sono male. Questa è un po' una scaletta di diversi progetti, di quando sono iniziati, quindi iniziano dai primi del 2008 fino ad oggi. Il 15 maggio scade la ultima call di questo programma, CTPSP, che raccoglierà quindi gli ultimi aggregatori, e finanzierà gli ultimi aggregatori per europeana. Molto brevemente, questi sono i quattro punti principali attraverso i quali europeana ha sviluppato il suo piano strategico di sviluppo per i prossimi anni, fino al 2015. In particolare, la prima parola chiave è aggregare. Quindi, europeana si pone l'obiettivo di diventare la fonte autorevole per i beni culturali online. D'accordo? Questo lo fa attraverso la raccolta di contenuti, ovviamente, l'espansione del suo network e ovviamente anche incentivando il miglioramento della qualità dei metadati e dei dati digitali stessi. L'altro obiettivo che si pone è facilitare, quindi, e sostenere l'intero settore dei beni culturali attraverso il trasferimento di conoscenze e anche attraverso l'uso di innovazione, per cui si pone anche come facilitatore nell'uso di nuove tecnologie e di nuovi tool, diciamo così, incoraggiando la ricerca, creando anche, facendo, diciamo così, network, rete, tra i vari progetti, tra i vari progetti e le istituzioni a livello nazionale, insomma, in questi anni ha cercato anche di in qualche modo di facilitare appunto la messa in linea e la condivisione di materiali e di beni culturali online. Ovviamente un'altra delle parole chiave è la distribuzione, quindi rendere il patrimonio accessibile in maniera più ampia possibile all'audience il più ampia possibile e quindi sviluppando collaborazione, aggiornando costantemente il suo portale e cercando di rendere i contenuti che ospita facilmente inseribili nel, diciamo così, workflow dell'utente finale, che sia un insegnante, che sia un curatore museale o un produttore di blog o di altre informazioni. L'ultimo punto chiave è appunto il coinvolgere, quindi sviluppare nuovi modi per far partecipare gli utenti stessi, che siano privati o che siano istituzioni o società, nel riuso e nell'uso dei beni culturali digitalizzati. Queste sono essenzialmente le quattro linee principali su cui si è mossa europeana. Un esempio di quest'ultimo tipo, quindi nel coinvolgere utenti, in questo caso in verità un po' utenti finali, ma istituzioni, è quello di sviluppare dei tool come quelli che abbiamo fatto noi, i NeoScreen, per creare appunto virtual exhibition, per creare dei percorsi guidati che in questo caso di europeana istituzioni accreditate possono creare sul portale stesso. Quindi questa è una per esempio sull'Art Nouveau che è stata fatta, messa in piedi, quindi con dei contenuti originali più materiale preso dal portale stesso per creare una sorta di percorso multimediale su temi specifici. Ce n'è uno anche, una nuova exhibition sui matrimoni nell'est Europa, molto bella, interessante, una sul teatro Yiddish, ne sono state fatte diverse, diciamo così. Quindi questo in qualche modo sono contenuti preconfezionati, in verità, che possono ovviamente essere liberamente utilizzati all'interno di una classe, ma non sono esattamente quello che immagino vorreste avere, cioè uno strumento che invece vi consenta di costruire a seconda delle vostre esigenti, della vostra specifica, il vostro ciclo curriculum scolastico all'interno delle vostre classi. Direi che per Europeana abbiamo finito, questo è semplicemente uno dei tanti modi che loro forniscono, danno a terze parti per includere i contenuti di Europeana, danno delle API, quindi delle programmi interface, che consentono per esempio a chi gestisce un blog di poter inserire, acchiappare, diciamo così, contenuti provenienti da Europeana e inserirli nel blog. Io ho un post che parla di Napoleone, per esempio, quindi contiene queste parole chiave, questo tool, diciamo così, consente di fare automaticamente una ricerca nel portale europeano, a tirar fuori gli item relativi a quella keyword e metterle magari nella barra a sinistra del vostro blog, di modo che avete delle informazioni contestuali che spesso questo sistema funziona, spesso no, molto dipende anche dall'espressività dei vostri contenuti, dalla raffinatezza dell'algoritmo che si usa per acchiappare i dati in Europeana, quindi spesso non è detto che ho sempre risultati coerenti, però questo è un esempio molto banale di come si possa associare contenuti di Europeana all'interno dei propri contenuti. questo è il portale di Europeana, bene, ho tre minuti, e anche qui molto banalmente posso riproporre le stesse ricerche come ho fatto prima in EoScreen e ottenere una serie di risultati che provengono da diverse istituzioni, c'è anche luce, questa è una settimana in Comnostra, tra l'altro probabilmente troviamo anche quello che abbiamo visto prima noi di là nel nostro archivio, oppure qui ci sono altri materiali francesi che vengono dall'INA, varie cose, questa è un'intervista a Indira Gandhi, eccetera, posso fare dei filtri per media type, quindi vedere solo i video, vedere solo le immagini per lingua, per tipologia, di nuovo, e una volta che ho trovato un qualcosa che mi interessa, vado e esamino appunto i metadati e poi posso andare direttamente a visualizzare il filmato direttamente dal content provider, quindi Europeana non ospita direttamente il contenuto, ma linka al, questo lo fa per 23 milioni di oggetti, quindi una massa critica abbastanza consistente, ovviamente è un portale generalista per cui ha anche tutti gli inconvenienti dei portali generalisti, nel senso che in Neoscreen abbiamo dei contenuti ben contestualizzati, ben definiti, qui in verità abbiamo un mare magnum di informazioni in cui spesso ci si può perdere in verità, però ecco, è una cosa importante da tenere presente perché potrebbe essere questa una fonte di, uno spunto per voi come fonte certo non purtroppo immediatamente riutilizzabile come potrebbe essere Internet Archive o Open Images che abbiamo visto prima, però comunque è un qualcosa che si può usare come riferimento. Un'altra cosa interessante che hanno fatto tra le varie tool è quello che hanno sviluppato una funzionalità che consente molto facilmente con un click di avere il testo da inserire in Wikipedia per fare riferimento a quell'oggetto. Quindi io trovo in europeana qualcosa che mi interessa, sto scrivendo una pagina in Wikipedia su un argomento specifico appunto, non so, Gandhi in questo caso, posso facilmente acchiappare questo contenuto e inserirlo linkandolo ovviamente non inserirlo concretamente ma inserirlo come link all'interno di Wikipedia copiando questo embed text e inserendolo nella mia pagina Wikipedia. Quindi questo è un altro piccolo esempio di riuso, di facilitazione nel riuso di questo tipo di portali. E andando subito al succo vi volevo far vedere quello di cui avevamo parlato fino adesso cioè le virtual exhibition Allora vi abbiamo chiesto di registrarvi su Euscreen e di cercare del materiale perché essenzialmente si ha la possibilità in questo modo eccolo qui si ha la possibilità in questo modo di ok vado direttamente all'isitato finale così partiamo da lì quindi io posso a questo punto abbiamo realizzato degli strumenti in Euscreen tali per cui io posso partendo da contenuti in Euscreen e a breve anche usando contenuti di altre fonti da YouTube a Wikipedia crearmi una sorta di percorso virtuale all'interno di questi materiali selezionati e di creare una mia storia un mio virtual tour che poi posso utilizzare all'interno di una lezione oppure linkare all'interno di un blog l'uso e le possibilità sono molteplici questa è una cosa stupidissima che ho fatto io personalmente che mi intendo molto poco di contenuti quindi è una cosa come dire il tempo che trova è solo per farvi capire il concetto diciamo così Mati poi domani con lui voi stessi sarete autori di una cosa simile quindi che sarà per me e ve la vediamo brevemente poi domani avrete modo di lavorarci sopra concretamente diciamo così e iniziamo a navigare quindi questo è Rome è virtual quick tour ho un titolo e poi posso ho una ho dei contributi sia audio video o quello che è in questa cosa in verità quella è una è una foto mi viene erroneamente ancora il simbolo di play ma siccome questo è ancora in beta non è ancora perfetto in verità non dovrebbe comparire quel simbolo perché appunto è una fotografia quindi non c'è da fare nessun play in questo caso e ho del testo quindi a corredo questo testo l'ho incollato da da wikipedia copiato e incollato da wikipedia ovviamente posso scrivere quello che meglio credo ho diviso la mia virtual exhibition in pagine quindi qui racconto un po' la storia di Roma questa è una è una turista finlandese al Colosseo che avevamo nel nostro archivio e e qui espongo le buone ragioni per 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 alcuni buoni motivi per stare a Roma e ho inserito una intervista quindi io posso fare clicca qui sopra per esempio e inserire questo questo servizio che è un'intervista essenzialmente a tre turiste straniere che spiegano il perché tutte le strade portano a Roma non pretendiamo mica di dire una cosa nuova ci siamo accorti però che le straniere una volta arrivate a Roma non riescono più a trovare la strada che dovrebbe riportarli a casa c'è da pensare che se tutte le strade portano a Roma nessuna porta via da Roma esiste qualcosa in questa città di acqua e di marmo da cui non è possibile pagliarsi città di acqua e di marmo questa mi è piaciuta non ve lo faccio dire tutto perché siamo già fuori tempo limite poi avremo modo inserire quindi posso mettere alcuni format che posso usare come layout quindi ho da una parte un contributo in cui le straniere ci dicono i buoni motivi per cui sono rimaste a Roma da un'altra volta abbiamo un'intervista a dei latin lover che spiegano come fanno a conquistare le turiste romane è divertente sto resistendo alla tentazione di farvelo vedere ma perdiamo troppo tempo se ci andiamo in play sopra e poi posso anche inserire un layout in cui inserisco una lista di contributi agiovisivi uno è su i gelati al Colosseo questo era stato un periodo in cui avevano aperto un bar all'interno del Colosseo si è terribile quando l'ho visto non potevo credere ai miei occhi eppure si all'interno del Colosseo c'è stato per un po' di tempo un bar e questo era un servizio che fantastichava di questa novità incredibile in cui i turisti potevano finalmente prendersi un gelato all'interno del Colosseo questa è una foto di Piazza Venezia invece questo è un servizio sul turismo archeologico a Roma quindi Ostia in particolare questo ovviamente posso inserire delle informazioni a contesto a fianco e andare avanti così in questa maniera io questa cosa l'ho fatta veramente in 15 minuti non di più voi direte si vede però comunque per dirvi che tecnicamente la cosa è molto banale ora vi mostro velocissimamente prima che mi prendano per il collo qual è lo strumento che stiamo utilizzando questo Exhibition Builder che sarà quello che userete poi domani insieme a Mati in questo Exhibition Builder io ho a disposizione uno strumento in cui posso aggiungere pagine e dire ok adesso voglio fare una nuova pagina posso scegliere il layout cosiddetto singolo che è questo qui cioè una foto cioè un oggetto foto o video quello che è e del testo ok ho il layout comparativo quindi quello che ho in cui ho due contributi foto o video quello che siano e del testo oppure il layout a lista un elenco verticale di contributi e del testo a fianco ovviamente è semplice ed anche un po' limitato se vogliamo però io posso combinare questi layout all'infinito posso creare anche 20 pagine 30 pagine alternate con i layout che preferisco e in questa maniera abbiamo reso la cosa il più semplice possibile ovviamente la espanderemo probabilmente si potrà rendere anche più flessibile al momento questi sono i tre layout che si possono usare però ritengo che sia comunque abbastanza funzionale quindi supponiamo che io voglio aggiungere una nuova pagina a layout singolo a questo punto io come vedete vado qui aggiungo del testo titolo di prova d'accordo? aggiungo anche qui dell'altro testo che posso incollare o copiare anche da altre fonti lo posso avere in Word e lo copio qui dentro facendo un po' di attenzione ovviamente alle formattazioni ai testi perché è sempre meglio importare del testo schietto piuttosto che il testo formattato e posso aggiungere l'altro testo qui ed infine posso selezionare dei media al momento io posso solo selezionare media di Eoscreen che io ho aggiunto nei miei bookmark d'accordo? ecco da lì la richiesta domani voi entrerete col vostro racconto accederete ai vostri bookmark e potrete creare potrete creare delle virtual exhibition usando i materiali che avete bookmarkato diciamo così ok? e presto l'intenzione è quella di aggiungere anche la possibilità di prendere fonti di terze parti ripeto ancora YouTube piuttosto che immagini che avete sul vostro sul vostro disco fisso piuttosto che immagini di Wikimedia o di Internet Archive ok? quindi io dico ok voglio inserire questo 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 video e voilà posso cambiare il testo in overlay e quindi aggiungere anche altro testo qui prova 2 e a questo punto io posso dire ok bene ho fatto la mia pagina ne aggiungo adesso un'altra e ancora una volta prendo il layout non so lista per esempio e in questo caso di nuovo seleziono un oggetto aggiungo del testo e posso aggiungere un altro elemento e vado avanti così in questo modo e quindi mi legherò un mio elenco di video foto che ho preso sempre da mia bookmark testi e poi ovviamente in qualsiasi momento posso tornare a visualizzare quello che ho fatto un'altra cosa che posso fare per esempio è selezionare un tema quindi un tema che è lo sfondo della mia exibizione al momento abbiamo una scelta limitata dovremmo consentire presto anche di usare sfondi propri cioè uno aggiunge uno sfondo all'exhibition che ho sul mio disco qui al momento offriamo questa possibilità di questi sei sfondi d'accordo che posso mettere sotto la mia exhibition voglio andare in preview vado a vedermi come è venuta fuori scorro fra le varie pagine e arrivo anche a quella che ho aggiunto adesso che è questa prova prova 2 titolo di prova quindi questo è un po' ovviamente poi ecco non vi ho fatto vedere ho anche una pagina specifica in cui posso mettere informazioni sul curatore di questa exhibition diciamo così quindi su me che ho fatto questa virtual exhibition posso spiegare chi sono come l'ho fatta gli obiettivi gli scopi quindi è una pagina dedicata alle informazioni di servizio diciamo così c'è anche una pagina relativa ai credits in cui vengono riportati tutti gli elementi con il loro titolo e un screen questa visualizzazione andrà arricchita una volta che aggiungeremo anche fonti di terze parti potremo aggiungerci anche la provenienza l'indirizzo web eccetera eccetera per ovviamente citare la fonte diciamo così in maniera automatica questo molto brevemente è il il tool per le virtual exhibition diciamo così quindi domani l'obiettivo sarà quello di giocare un po' con con questo oggetto che presto sarà reso disponibile a tutti al momento non è proprio è aperto non è pubblicizzato sul portale eoscreen quando lo finalizzeremo come dire in uno stato finale sarà possibile quindi per voi per le vostre classi per i vostri studenti andare sul portale eoscreen selezionare dei materiali e crearvi la vostra virtual exhibition immagino che in questo modo voi potrete anche assegnare ai vostri studenti come compiti a casa realizzate una virtual exhibition che poi si può tra l'altro un'altra cosa che non vi ho fatto vedere queste virtual exhibition poi si possono eventualmente condividere quindi io posso dire ok questa virtual exhibition la vede io e la mia classe quindi aggiungo utenti che possono visualizzare la mia classe oppure la posso vedere solo io perché è privata non voglio che sia vista da altri per esempio io